Queste sorelle si amano davvero e amano davvero davvero tanto gli scherzi! Nascondere un topo, rubare un fidanzato, rompere un rubinetto e rovinare le foto! Guarda il nuovo video di WooHoo sugli scherzi divertenti tra sorelle! Alice, fammi una bella foto con i fiori! Ok, sorellina! Perfetta! Ora fammi tu una foto! Falla bella! Certo! Cosa? Sara! Grazie mille, sei la peggior fotografa di sempre! Sara dorme? Perfetto! Farò in modo che sembri che sia il terzo mese! I nostri genitori saranno così felici quando vedranno queste foto! Hey! Cosa? Oh! Alice! Wow, guarda che bello ragazzo! Lo farò mio! Cosa? Alice! L'ha visto prima io! È ora del piano B! Sarà mio a qualunque costo! Mi disegnerò dei graffi sul ginocchio! E userò tutte le mie capacità di recitazione! Ah! Fa male! What? Huh? Wow! Questa è una grossa ferita! Deve fare male! Hai bisogno di aiuto? Ecco, ti porto all'ospedale! Ciao ciao, Alice! Va bene, sorellina! Il tuo trucco non è abbastanza piccante! Ma aggiungerò un po' di peperosso alla tua cipria! E renderò il look indimenticabile! Ho un appuntamento! Augurami buona fortuna! Jake arriverà presto! Ho solo il tempo di incipriarmi il naso! Ehi! Ehi, Sara! Stai arrossendo? Sei nervosa? Oh no! Sembra un peperone! Devo andare subito a casa! Scusa, Jake! Amo le Pringles! Vuoi dividerle con me? Assolutamente no! Compratele! Devo prima lavarmi le mani! Fai pure, sorellina! Nel frattempo metterò sotto sopra il tuo mondo delle Pringles! Non toccare le mie patatine! Ops! Grazie, Alice! Alice ha una scatola di spazzatura! E ci ha messo sopra un adesivo che dice di non toccarla! Sara ignorerà sicuramente i segnali di avvertimento! Metti la scatola da qualche parte in alto! Ora aspetta che la curiosità di Sara abbia la meglio su di lei! Non ci vorrà molto! Cosa nasconde, Alice? Segreti? Vediamo! Tutti i segreti sono caduti proprio su Sara! Che schifo! Ma anche Sara ha scogitato uno scherzo! Sta incollando il bicchiere di Alice al bancone! Ehi, sorellina! Vuoi un po' di Pepsi? Certo! Ups! Questo sì che è davvero rinfrescante! Povera ingenua, Alice! Questa barbabietola sembra un piccolo ratto! Metti il ratto vegetale in una tazza, con la coda all'infuori! E sposta la tazza con il filo da pesca! Oh no! È un topo! Aiuto! Sei così divertente, Alice! Paura di una piccola barbabietola! Sto per fare uno scherzo a mia sorella, creduluna! Mi basta un po' di pasta secca in bocca per i miei speciali effetti sonori! Alice, mi scrocchi la schiena? Oh no! Cos'era quel rumore? Mi hai spezzata in due! Ah ah! Fregata, sorellina! È solo uno scherzo di vecchia scuola! Avresti dovuto vedere la tua faccia! Sogni d'oro, Alice! Intanto ti preparo uno scherzetto! Coprirò il rubinetto con la pellicola trasparente! Alice non se ne accorgerà nemmeno! Alice si lava sempre la faccia la mattina! Ehi, perché c'è una fontana qui? Sara! Signor nerd, siediti e aiutami a fare i compiti! Alice, facci un tè, per favore! Certo, cara sorella! Mi piace aiutarti! Il tè è fatto! Ma condirò la tazza con il tuo rossetto preferito! Con un solo sorso, Sara si trasforma in Joker! C'è qualcosa che non va nel tuo sorriso, Sara! Cosa? Oh, grazie per lo scherzo, Alice! Mentre Sara si fa la doccia, Alice ha tutto il tempo di versare l'olio d'oliva nell'asciugamano di sua sorella! L'olio d'oliva fa bene alla pelle! Oh, che cos'è? Una maschera per capelli all'olio d'oliva! Immagino che dovrò fare di nuovo la doccia! Grazie mille, sorella! È l'ora del tè! Ho dimenticato una cosa! Delizie da accompagnare al caffè! Ne prendo un po'! Ho qualcuna in più! Ehi, dov'è il mio cibo? Pensavo ce ne fossero i più! Oh, uno sneaker! Non male! Grazie! Ecco chi ha mangiato il mio cibo! Ok, sorellina! Farò un dolce speciale solo per te! Il gelato al wasabi è davvero, davvero delizioso! Ah, brucia! Aiuto! Alice! questo è lo scaffale della mia sorellina oh, è così carino guardatemi, sono una principessa degli unicorni mia sorella ha dei bei jeans ho un'idea su come farli miei devo solo cucire un po' i jeans di mia sorella lei non se ne accorgerà dove sono i miei jeans preferiti? non si chiudono ma perché no? come va, sorellina? i tuoi jeans sono troppo piccoli per te? credo che tu sia ingrassata un po' ma mi piacerebbe indossarli anche se sono troppo piccoli su di te ti sono piaciuti i nostri nuovi scherzi tra sorelle? scrivi qui sotto che scherzo farai a tua sorella le tirerai le patatine le ruberai il fidanzato o le cucirai i jeans e ragazzi, iscrivetevi al canale mettete un like al video e cliccate sulla campanella non perdete i nuovi spassosi video di WooHoo!